Drumset Mag Ciao a tutti, mi chiamo Gianni Macavero, sono un batterista della provincia di Lecce e sono davvero onorato di essere oggi qui su Drumset Mag In questo video vi dimostrerò un esercizio creato e composto da me dal titolo Time Control and Beat Displacement Su Drumset Mag troverete il PDF in allegato con un'introduzione che vi spiegherà come studiare l'esercizio sia in versione Basic e sia in versione Advanced In questo video andrò ad eseguire direttamente la versione Advanced e noterete lo spostamento rispetto al Beat Un grande saluto a tutti quanti voi, soprattutto a Drumset Mag e un grande abbraccione e buon Drummic Ciao a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.